Non ho un po' di duda! Questo è probabilmente la cosa più bella che ho avuto! Pronti! Emma disperata che sta studiando per la maturità. Voglio piangere. Andrà bene, andrà bene. Tanto ci provano con te i professori. Escono, sono tutte donne. Eccola! Tanana! Non so niente! E' uscita! Come è andata? Non so niente. Solo la Presidente mi ha fatto domande un po' strane, però ha sposto tutto. Le ha chiesto il divorzio per dirvi che situa era. Lo so solo perché ha divorziato. Adesso si torna a casa. Ciao! Sembri un teletubbie. Ciao! Ciao, buona! Ciao, Willy! Come stai? Bene! E... Ciao! Che bellina! Tu sei una tipa che vuole andare forte o...? No, vabbè, sono abituata anche a quello. Wow! Bene, è durato molto sto giretto. Sono rimasto a piedi. Così è fatto! Ti vai, ti assù? Io. Cazzo è? Adesso scopro che l'ho grippata, vecchio. Madonna vecchio, hai salvato tutto! Ce l'abbiamo fatta! Grazie di avermi salvato. I tuoi 30 secondi di video li fatti? Sì, esatto. Oggi ho lavorato. Abbiamo beccato noi, Sina! Ok. Madonna, ma guarda qui sta! Ma scusi, puoi guardare prima di attraversare? C'è... Bisogna pagare prima la carta. Occhio, 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 occhio alla macchina. Ah, sì. La fai paghi dopo il... Ma non va la... Quanto devi fare? Eh, il pieno, saranno di 15 euro. Poi, ma qua ci sono un botto di auto straffive. È tipo il benzinaio dei milionari. Ciao! Posso vedere una foto? Certo! Grazie mille. Non ho proprio... Non ho proprio dura, no! Non quel casco là, no! No, non questo! No! Sono un idiota. Possiamo parcheggiare lì? Un blocco a degli altri. Va bene, ragazzo. Tu tranquillo, lasciala proprio a portata di furgone. Faccio una foto per l'ultima volta che la vedo. No, va bene, la sposto. Poi qua c'erano le videocamere. Ma dove che guarda dall'altra parte? Stiamo andando all'evento di presentazione della mia nuova moto. Ciao! È il nuovo sito nella natura. Eco sostenibile, valori. Ma è fuori di testa. Ma c'è anche le chiavi, è assurdo. C'è anche il portabicchieri. Hai visto? È nuova. Mi aspettavo l'hyper, da te la sincero. Vero? Tadà! Porco! Lo sapevo che ho presa a scritto. Lo sapevo! Congratulazioni. Finalmente sei entrato nel club di quelli col pisello medio, non grande, medio. Ragazzi, la nuova moto di Michele. Sì, magari. Che shit! Posso fare una patente a tre e non l'ho usata. È incredibile. Invece la patente non ho mai preso una moto. Se mi devi prendere una moto. Posso farvi aiutarti? Se volete. Dio, che bella. Si va il ciringhito con la moto d'acqua. Da sopra, una panigale V4S. Mamma, che figo! Ma che roba! Perché sembra essere in America. Ma dai, non mi metto in piedi. Ma eviterei. Oh, yeah. La sorpresa non è questa. Non è vero mai. Quello di la tua nuova moto. È la mia nuova moto. Ducati, Ducati. Ducati, sì. Quella delle gare. Sì. No, no, no. Spero davvero che tu cambi casa tra poco. Perché qua chiamano atti ora, gli americani chiamano atti ora. Bro, bro. Mi fai un prestito di 40.000 euro per comprare una testa. Tieni, tieni il power bank. Come faccio? È che se tu ti porti 70 hits, non c'è lo spazio per il resto. No, è che avevo anche i trucchi. Senta. Sapevi che andavamo con questa, vero? No. Sembra una mosca. No. Ma si può aprire per mettere la borsa. No, non ha un borsello. Che carina che sei. Ancora. Mi sento osservata. Vabbè, non ti guardo più. Questo. Esatto. Eh, ma non me la lacci. Sì. Cioè, tu mi hai dato un casco, non sei neanche più. No, è che... Grazie. Tota, sei la prima ragazza che porto dietro qui. Cioè, il pedale vuol dire mica questo? Sì. No, figli, sei fuori di testa. Dai, su, su. Su, su, cosa? Mi tengo a te, per forza. Eh, beh, sì. Sei pronta? No, devo legare i miei capelli. Eh, perché poi vanno tutti a puttane. Come noi stasera. Grazie. Bello. Bello. Sì, occhio al pedale perché è molto sensibile. Eh, come me. Unico accorgimento serio. Ok. Se ci sono dei dossi, vai piano. Ah, bisogna andare piano. Prendi storti. Cosa è che... Devo prenderlo storto? Sì. Mamma. Piano, 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 piano. Vai, bro. Ah, è vero? Ti bisogna cambiare. Ah, che bello. Ma, bello. Ma di più o meno della Tesla? Meno. Meno? Sì. Andiamo a provare la Tesla. Sto telecaverino non è proprio... È dritto, no? Phil. Cosa? Il parcheggio è fatto che tu devi entrare o di là o di qua. Ma è tutto indietro lo schienale? Guarda, cioè... Eh, sì, eh, se... Il passeguito deve stare comodo. Questo non l'ho messo io. Questa scelta qua così. C'hai scoperto qua dentro. Stavo guardando i miei vecchi video. Sono proprio belli. Cioè, sono simpaticissimo. Comunque ti guardo anche questo video qua, per certo. Sono un bel ragazzo. C'è proprio la fatta. E ti ha complimenti. Grazie. Ti faccio pure i cerchioni. Puoi una mano? Da forza. Ok, perfetto. Ecco, ecco. Eh no, quello non ho spugnato. Asso è calore. Dove andresti senza di me? Prego, eh. Grazie per la domina. Dai, fra comunque a parte di scassi, lo voglio... Di qua è bello da vedere. Stupendo. Fantastico. Sai cos'è? Tanto grande. No, sono grandi uguali. Vabbè, tanto le dimensioni. Disse piangendo. Sì. No, che mi impuzzi tu. Eh, fumo fuori. Ma... Ah, fammi finire, fammi! C'ho abituato a tutta questa tecnologica. È vero. Chissà che si fa... Oh. Me lo devi dì però, non fai a caso così. Ciao, Gabriele. Ciao, ciao. Ciao, vecchio. Ho bisogno di un consiglio. Sto lanciando il mio brand di moda. E c'ho un dubbio sullo slogan. Le white, meglio che buttarli nel cesso. Ti è arrivato. Ti è arrivato. Sì, mi è arrivato al cuore. Grazie a te. Io comunque sconvolto, cioè... Pensavo fosse così da adesso. Sì, non è malaccia. Che ridere. Io ho una proposta da farti. Sono fidanzata. No. Una delle cose che adoro di più è fermarmi all'autogrill e prendere il caffè. Ti va? Ma l'autogrill in particolare o possiamo andare in un posto che costa meno? D-Rex. Facendoci vedere cose... Perciò sapere che Giulia ha quasi 30 anni. È nell'età in cui si fanno i bambini. Perché mi devi fare del male? Filippo, perché ho 14 cose nel mio calendario oggi? Abbiamo messo la scadenza a Giulia di 70.000 cose nello stesso giorno. Cosa giri i video? Che tanto poi non li pubblichi. Anch'io voglio la macchina così. Dai, adesso ci lavoriamo. Filippo decide di venire a un evento di Ducati con la macchina arcobaleno. Ciao, mille. Ciao, raga. La macchina sparca. Grazie. Bella, eh? Questa è una cosa più bella che mi ha detto. Questa! Oh, mio Dio! Rainbow Tesla. So cute! Posso? Sì, sì, ovviamente. Poi, questo è probabilmente la cosa più bella che mai. Posso prendere una foto in fronte? Sì, sì, ovviamente. La Napoli è la mia! Certamente la Napoli, lui. Mi sa che si è dimenticato il cazzo. È come la tua, è come la tua. È così bella! Guarda, si è casato, la fa anche tu adesso. Sì, sì. Si è casato il tipo con la testa. Guarda che la fotografa! Sarà la prima volta che verrà vista la mia macchina, Padova. Sono troppo curioso, vediamo. È di notte! È la più bella! Siamo pronti a farci fermare, raga. C'è anche la polizia. C'è anche la polizia. Ha detto che sono carabinieri, che sono la Riders. Non ho ancora fermato nessuno. E perché proprio noi? Ma tu sei film! No, giuralo! Sei bellissimo! Ti fa passare quel megafono. C'è il coso qua che sta diventando un altro. Non capisci più. Sambi! Bella! Ciao, raga! Ti lascio qua un minuto, non so. Ragazzi, fate la parcheggiare per piacere. Dai, mi metto di là. E facciamo un arco fotografico. Vai con la Tesla! Guarda che cazzo, eh! Ci siamo! Bella, raga! Vai, vai, facciamo la foto! È un l'android di merda, però ci... Vai, vai, tra! Ma onestamente, va di più la Tesla? Non ho il VR. Faccio passare gli stami dietro. Questo, Claudio e Livia. Ciao, Pillo! Ciao, ragazzi! Oh, c***o! Ciao, raga! Cosa ho fatto? Patente e libretto! Ciao! Ciao, Pillo! Cosa va? Sembra troppo la polizia! Ho paura! Mi stavo cagando addosso, ho detto, ecco, cosa ho fatto? Ciao! Mi sono cagando addosso! Sì!